Ciao a tutti amici sportivi dall'Aveno in occasione della presentazione della stagione l'Aveno Calcio 5 con Luca Pilotto. Ciao Luca, come mai dopo tanti tanti anni di calcio a 11 hai fatto questa scelta? Innanzitutto ciao a tutti, ma diciamo che dopo tanti anni ho deciso di passare al Calcio 5 perché ho trovato nuovi stimoli, nuove emozioni che la società l'Aveno Calcio mi sta dando e spero davvero di dare il mio contributo, la mia esperienza in questo nuovo mondo anche per me. Ti ringrazio molto e in bocca al lupo per questa nuova avventura. Crepe il lupo, grazie mille Pino.